Manca davvero poco all'inaugurazione della seconda edizione del Premio Nazionale di Arte Contemporanea Chiaravalle Arte e l'attesa cresce a Chiaravalle Centrale per un evento culturale di altissimo prestigio e qualità. Taglio del nastro il 29 luglio alle ore 18.30 presso i locali del liceo scientifico di Piazza Calvario. Il sindaco Domenico Donato ha espresso il suo entusiasmo per l'impegno organizzativo che ha portato alla realizzazione di questo evento. Si dà la possibilità ai nostri giovani di poter avere una visibilità maggiore, si ha la possibilità di poter far ancora di più conoscere la nostra realtà cittadina e questo è importante per un sindaco, quindi dare tutte quelle opportunità di crescita e noi ce la stiamo mettendo tutta. Per l'inaugurazione è prevista la presenza del direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari, un evento imperdibile dunque per tutti gli amanti dell'arte contemporanea che promette di essere un momento di grande creatività e talento.